Si, solamente col cronometro in pista, perché poi il problema è guardare l'orologio ogni 100 metri e viene a fare una schifezza di gara. Non credo che il nostro coniglio oggi ci disturberà anche perché è in altre faccende affacendato. Dopo aver parlato con Andrea delle possibili scarpe da gara per gareggiare in pista, oggi torniamo sull'argomento di come gareggiare in pista, cosa fare. Abbiamo cercato di raccogliere le principali considerazioni che secondo noi, dato che i podisti amatori in questo periodo non possono correre in strada, potrebbero essere utili a chi vuole passare dalla strada alla pista. Senza troppi indugi lascio la parola ad Andrea che da Garbagnate ci racconta come correre in pista in meno di 10 minuti. Ciao Andrea, spero tutto bene. Ciao Max, tutto bene, sì. Non a caso ti ho messo dietro gli ostacoli, so che hai appena realizzato il personale sui 5000 e sui 3000, quando è che farai 3000 siepi? Credo mai, credo che potrei passarci di fianco ma mi squalificherebbero, quindi no, credo mai. Quanto pensi che faresti sui 3000 siepi sapendo che hai fatto un ottimo tempo sui 3000? No, no, guarda, il problema lì è troppo tecnico, dovrei imparare a saltare le siepi e la riviera, ma davvero la credo è una cosa impossibile, quindi ci metterai un quarto d'ora in più forse. E invece so che l'anno scorso gareggiavi tutte le settimane in strada, quest'anno sei passato alla pista, che cosa ci racconti? Al dire il vero anche da quando ho iniziato a correre ho sempre corso anche in pista, in questo periodo qua la sfruttavo abbastanza, ho sempre puntato i 5000, 10.000 che ce n'erano abbastanza, campionati regionali e negli ultimi anni anche campionati italiani. Di gare più corte ho provato un 800 che è una cosa proprio mistica, dei 1500 e dei 3000. Questo video lo stiamo facendo perché l'idea è nata dal non ci sono gare, sta riprendendo, c'è qualcosa e quel qualcosa che stanno facendo sono gare in montagna, sono gare in pista. Per me il grosso problema è che tutti gli amatori puntano sempre alla strada e nessuno va a correre in pista e si ha sempre davvero poche persone a correre in pista. Secondo me è un peccato. Come si fa a iscriversi a una gara in pista? Allora, iscriversi a una gara in pista è relativamente semplice, dovete iscrivere alla vostra società qual è la gara che dovete fare e vanno loro da Fidel Online e vi iscrivono. Se invece dovete andare a gareggiare, tipo in Svizzera, come ho fatto io, basta mandare una mail all'organizzazione, date dei tempi più o meno verosimili con quello che dovrete fare in gara e vi inseriranno in una batteria del vostro livello. E come si fa a scegliere una gara? Perché comunque mi hanno anche scritto questa settimana che è difficile. Le gare le troviamo in Italia, le troviamo sul sito della Fidel Italia, c'è proprio il calendario dove ricercate le gare outdoor e escono tutte le gare in tutte le regioni, oppure andate sulla Fidel della vostra regione, tipo Fidel Lombardia, c'è il calendario delle gare e da lì scegliete quella che volete fare. Di solito c'è di fianco il programma, il programma orario e tutto il resto per capire a che ora partirà più o meno la gara. E come ci si prepara per una gara in pista? Come ci si prepara? La gara in pista la prepariamo secondo me meglio in pista, quindi le ripetute le cerchiamo di fare in pista per vedere esattamente i passaggi. La cosa diversa dalla strada è che in pista dobbiamo correre il più regolari possibile, quindi se devo fare un 5000 in 20 minuti vuol dire che devo passare a 4 minuti al 1000 ad ogni chilometro praticamente. Quindi non è come in gara su strada che magari posso rifiatare nei pezzi di discesa oppure ci sono i pezzi in salita che mi fanno un po' perdere il passo. In pista dove cercare di essere regolare. Chi non ha mai provato è proprio una roba strana e anche difficile perché arrivate praticamente cotti avendo dato tutto il 100%, forse anche un po' di più. E di solito quanto tempo ci vuole prima di partire? Ecco, allora il problema è per chi non è esperto, ma è anche questa una cosa simpatica, quando ci sono le gare in pista si sa che ora parte la prima batteria ma non si sa quando effettivamente corriamo. Quindi può capitare spesso che magari sono nella batteria più lenta e quindi corro per primo, oppure sono nella batteria più lenta ma in quel determinato meeting mi fanno correre per ultimo. Quindi cosa succede? Ci si presenta al massimo un'ora prima della gara, ci si deve confermare al tavolo, quindi al tavolo poi prenderanno e sputteranno le persone che sono presenti. Verranno create le batterie in ordine di tempi o dai FIDAL o nei vari paesi dove siete andati con i vari tempi che pensate di tenere. Quindi magari una batteria da 20 persone dai 20 minuti ai 19 per dire. E poi niente, quando fanno le batterie sapete più o meno che se siete in seconda batteria ci sarà una prima e ci metteranno 25 minuti e dopo toccherà a voi. Quindi anche per il riscaldamento secondo me bisogna assolutamente sapere che ora partirete più o meno e fare quindi il riscaldamento mezz'ora prima della vostra partenza. Sì questo poi ce l'avevi spiegato in un video precedente, molti ci hanno ringraziato perché era comunque una cosa che non era presente sul tubo. E invece dal tuo punto di vista come fai a gareggiare? Su cosa ti basi? Ti basi sull'avversario piuttosto che sui tempi, sul GPS? Qual è la tua strategia? Allora si corre solamente col cronometro in pista. Spesse volte al passaggio dove c'è l'arrivo c'è un cronometro. Quindi per assurdo vi potreste studiare i passaggi al 200, al 600, al 1000, così da non dover guardare l'orologio e adattarvi a quello. Perché poi il problema è guardare l'orologio ogni 100 metri e viene fuori una schifezza di gara. Io più o meno mi vado sulle mie sensazioni, vedo quali sono i passaggi e poi cerco di tenere quei tempi. E' ovvio che se siete in una batteria dove c'è qualcuno che va in mezzo secondo più forte, un secondo più forte, la strategia è di provare a stare attaccati e quindi non correre da soli. Sicuramente correndo da soli si perdono svariati secondi. Per dire, una delle mie migliori gare è stato il 3000 di quest'anno a Milano. L'ho fatto dietro a un pacer per i primi 1600 metri e dopo più o meno ci siamo andati dei cambi per l'altro chilometro. Ovviamente perdendo poi in volata con Riccardo e Marco. Invece nel 5000 mi è capitato di tirar fuori comunque il coniglio dal cilindro perché ho dovuto fare il primo 1000 abbastanza forte nel gruppo, altri 500 metri a cambiarmi con un altro ragazzo e poi mi sono ritrovato praticamente da solo, ho dovuto costruirmi la gara da solo. Lì il segreto è stato girare l'orologio e fare 3 chilometri e mezzo più forte che potevo ed è andato tutto bene. Però di solito credo anche che con una lepre avrei fatto qualche secondo meglio. Quante persone di solito gareggiano in una batteria? Allora in una batteria di solito si arriva al massimo a 30 persone, si fanno partire in due punti diversi, qualcuno interno alla pista, qualcuno più esterno e dopo si rientra dopo i 100 metri. Dipende sempre di quanti iscritti ci sono, se ci sono 100 iscritti di solito fanno 4 batteri da 25. E in questo periodo di pandemia pensi che ci siano dei problemi oppure quali sono le cautele che le varie associazioni prendono prima di partecipare alla gara? Si era partiti con gare massimo fino agli 800 in corsia oppure distanziati partendo ogni 100 metri mi sembra, una roba abbastanza infattibile. Infatti dopo hanno cambiato le regole, adesso stanno facendo dei 3.000, dei 5.000 dove si parte comunque tutti insieme. Ovviamente si è in poche persone, 20, 25, 30 persone in partenza, quindi non ci dovrebbero essere rischi di solito. Invece l'ultima domanda, durante le vacanze pensi di gareggiare qualche gara in pista oppure proprio relax? Guarda, bella domanda, a dire il vero stavo guardando già il calendario FIDAL Sicilia per capire se c'era qualche gara nel periodo che andavo giù io. Devo capire bene se soprattutto, perché girerò un po', devo capire se cozzano le giornate di gara con i posti dove sono. Quindi vediamo un attimino. E quali scarpe utilizzeresti per una gara in pista, sapendo che comunque c'è questa diatriba sul fatto di poter utilizzare scarpe più di 25 mm? Guarda, ho gareggiato il giorno stesso che è uscito su World Athletic con le Vaporfly, no le Vapornext, Vaporfly Next Percent. Eravamo in un po' che le usavamo, sinceramente mi sto portando dietro quelle, se i giudici me le fanno usare le uso. Se invece davvero diventeranno fuori legge, userò delle chiudate o delle scarpe tipo le Adios. Ci farai sapere poi comunque quali scarpe utilizzerai una volta che il bando sarà effettivo. Guarda, di solito lo sanno prima gli altri di me con che scarpe ho corso, quindi va bene, però ve lo farò sapere. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima. Mentre il nostro bellissimo coniglio ha trovato il refrigerio in un posto davvero gradevole, mi sono dimenticato di dirvi che io sono Massi, recensisco tecnologia di corsa, se vi è piaciuta questa breve guida apprezzerei l'iscrizione al canale e comunque stay strong. Grazie. 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 Grazie.